Sei soddisfatto? Molto soddisfatto, io nella mia testa me la immaginavo così, già a gennaio quando ero tornato da Bali, dopo l'incontro con Robin Lim ho detto devo fare qualcosa, ho creato Time to Love, però io avevo questo obiettivo, così come metto il cuore nel mio lavoro e nella Time e nella musica ho detto se devo fare una cosa per fare del bene devo mettere il massimo e così siamo arrivati a questa sera. Quanto credi nell'amore tu? Io credo molto, l'amore secondo me è l'ossigeno della nostra vita. Fare beneficenza, l'amore per gli altri, cos'è per te? Allora secondo me, io penso, questo è il mio pensiero personale, di essere stato fortunato nella mia vita, quindi siamo un po', io penso di essere un po' debitore e quindi penso di facendo del bene di compensare ciò che la vita mi ha dato. Bene... 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 Bu lies... יט... Grazie a tutti